Alessandria, le fiamme gialle della compagnia di Novi Ligure a seguito di specifici accertamenti tributari hanno scoperto due contribuenti, entrambi operanti nel settore delle costruzioni edili, che hanno omesso di presentare, per le annualità d'imposta comprese tra il 2010 ed il 2012, la prescritta dichiarazione dei redditi, acquisendo così la veste di evasori totali. Le investigazioni, condotte mediante meticolosi riscontri documentali e contabili, consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza nonché controlli incrociati con i numerosi clienti e fornitori delle due ditte individuali, hanno permesso di ricostruire il reale volume d'affari, quantificando i ricavi sottratti all'imposizione fiscale in oltre un milione di euro, dai quali è scaturito un mancato versamento di IVA pari a circa 100.000 euro. I rappresentanti legali delle due aziende sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria per i reati di occultamento e distruzione di documentazione contabile e omessa dichiarazione. Gli importi e vasi sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, per il profilo sanzionatorio ed il successivo recupero a tassazione.